Ciao, nuova recensione, questa volta recensirò questi, sono andata due domeniche fa, cioè domenica scorsa, vabbè insomma una domenica al Toy Center, che c'era, era la domenica del compleanno del Toy Center, c'era il 25% di sconto su tutti i giochi, tranne alcune categorie così, e praticamente ho preso tutti i Shopkins rimanenti nel box, ora prima cosa, tanto attivo fuori la plastica, con tutti i cestini, e vi recensisco la scatola, molto carina, allora, praticamente ha un colore principalmente rosa, qua c'è scritto Shopkins, prima serie, poi, once you shop, you can stop, in italiano, lo shopping che passione, va bene, qua c'è scritto, two Shopkins in a basket, cioè due Shopkins in un cestino, poi ci sono vari Shopkins disegnati qua, e qua c'è una borsa, vedete, poi ci sono altri Shopkins qua intorno, anche qui, qui, oh che carino, e c'è scritto collect them all, cioè collezionali tutti, anche qui, qui, anche qua dietro, sono fatti dalla Moose, e sono importati qua in Italia dalla Giochi Preziosi, ok, ora, ah in più mi hanno regalato una bustina con uno Shopkins, della serie 1, quindi perfetto, io vi dico già che voglio completare solo la serie 1 e basta, perché veramente, se no, cioè, è quasi impossibile riuscire a farle tutte, perché siamo già, qua già in Italia, sono arrivati già la terza stagione, la terza serie, e quindi io ho detto no, cioè, completo la prima, che sono già tanti, comunque intanto vi apro questo, è una bustina, uno Shopkin in una shopping bag, una bustina è così, ve la faccio vedere brevemente, perché poi voglio aprire tutte le, e è uno Shopkin, aspettate, togliati, ok, allora c'è la shopping bag, la checklist, che abbiamo già visto le altre volte, e poi c'è lo Shopkin, che è questo, che credo di aver già, o forse no, boh, dovrò controllare, ma non so, forse non ce l'ho, la bustina ovviamente, la tengo, che carina, ok, ora apriamo, questi, vabbè, il cestino azzurro, fatto così, ho detto Shopkins, prima serie, qua ci sono due Shopkins, due Shopkins in un cestino, e boh, ora, vediamo di aprirlo, senza rovinare il cartoncino, che vorrei tenere anche qui, no, ok, perfetto, ho un piccolo problema logistico, però, come cavolo, e, vabbè, intanto lo tengo così, poi vedo di riuscire a, vabbè, qua c'è la checklist, che però ho già, ok, intanto lo tengo qui, qua c'è la checklist, che è tutta spiegata, la, solita checklist, che poi però prenderò quella, dove ho già segnato tutti gli altri, allora, ho trovato questo, che credo di aver già, e, e, questa, che credo anche di aver già, la, ma dopo controllo, adesso, la seconda, vabbè, questa qui la strappo, perché tanto non mi interessa tenerla, oh, che, oh mio dio, che carino, oh, 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 ok, questo non ce l'ho, bellissimo, cos'è, un broccolo, non si capisce tanto bene, comunque è carinissimo, e, questa, che è la, ehm, zucchero filato, che ho già, che è un, credo sia un super raro, aspetta, ehm, e, to, e, to, e, to, e, to, cotton candy, no, aspetta, candy cotton, ultra raro, perché è brillantinato, terzo, poi gli altri non so come riuscirò a prenderli magari da internet non piacerebbe trovare quelli dorati ma con la mia solita fortuna questa credo di averla già che cavolo e questo questo no questo sembra un dentifricio carino ok quarta 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 ne ho ancora quattro aspetta vi faccio già così tac tac ok così poi cavolo a cioccolato che ho già ne ho lì tantissimi dotti vabbè magari vendendo quello latte credo di non averlo ok quinta credo sì erano otto quinta 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 quinto cestino ok oh mamma ok questo questo che è praticamente una variante di quello che ho trovato nella bustina singola vabbè e ah questo che però credo di aver già ma devo controllare non sono sicura carino sesta sesta bustina ok ah 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 iogurta credo di non averla cavolo e questa che credo di averla penultima penultima bustina un casino di cartacce guarda per terra vabbè tanto raccolgo tutto dopo ok ah di nuovo una liquirizia che credo di aver già ma non di questa colorazione vabbè ultimo ultimo un cestino poi non so cosa sono con tutti questi cestini ma vabbè questo che è la variante bianca del dentifricio di prima e questo che credo di avere già ma non sono sicura ecco finiti dopo dovrò controllare sulla lista sulla lista che ho lì o qua qua sopra quelli ho tutti qua sopra e qua sopra qui sulle baccheche ecco finito gli shopkins adesso non so cosa farò vedo sorpresa ok allora al prossimo video ciao 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 ciao